E siamo noi, e siamo noi, sì, siamo noi, e siamo noi, e siamo noi, e noi, siamo noi, ok, vogliamo sentire le parole di questo bellissimo artista, intanto, 2, 1, 1, ok, sì, voglio una sorella, una fratella, una fratella qua su, c'è una fratella che salga qua con me, vieni fratella, dai con il minuto, con la massa, vai vai, vai, con tutto il fiesta, ma non è come la testa, e siamo noi, 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 Vieni, 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 vieni in questo modo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! C'è un pubblico meraviglioso! Il pubblico che io mi amo! Grazie Gran Caribe!